Il treno regionale 36.97 di Trenitalia, delle ore 12.08 per Treda, è in partenza dal binario 1. Ferma a Tanzolo, Castelfranco Vento, Campo e San Piero. Annuncio cancellazione treno. Il treno regionale 16.7.4.2 di Trenitalia, previsto in arrivo da Pradova e diretto dai 1 alle ore 12.06, oggi non è stato effettuato.